Adesso però davvero spetta al Parlamento, perché questo al di là della bocciatura è stato un referendum molto partecipato, cioè un Paese che fuori la pensa in un certo modo. Come Marco sa, io sono contro l'eutanasia, penso che la legislazione dello Stato deve essere rivolta verso la vita e la sua conservazione e che questo non è una questione di costo. Io credo che non possa essere un diritto morire, tant'è vero che quando c'è un confronto con Marco, di solito ci sono io perché sono uno dei pochi che sostiene questa cosa a volto scoperto. E per ragioni laiche, non per ragioni religiose. Detto questo, il Parlamento, proprio perché io penso che poi uno le proprie opinioni le deve affermare, quando sono maggioranza, quando sono minoranza, e non deve aver paura di essere minoranza. Essendo minoranza si può diventare nel Paese maggioranza. È accaduto qualche volta. Il Parlamento si sarebbe dovuto esprimere da tempo. Se noi siamo a questo punto, è perché su un richiamo esplicito della Corte Costituzionale, a legiferare su una materia che non è proprio questa, perché anche su queste cose bisogna fare attenzione, il Parlamento, diciamo così, se ne è fregato. Fino a che non sia arrivato a una sentenza della Corte che metteva dei precisi paletti all'omicidio del consenziente. è quella che nel servizio è stata chiamata, diciamo, la conseguenza della sentenza Cappato. Il Parlamento non ha lavorato su quei paletti, ma sta provando a travolgerli. Secondo me, creando una serie di distorsioni. Perché, ecco, una cosa è un suicidio assistito, appunto un diritto di scegliere, all'interno di determinati paletti. Altra cosa è, ad esempio, affermare che ogni volta che c'è una patologia irreversibile, questa possibilità scatta. In questi casi, io mi rendo conto che è molto difficile dirlo nei dibattiti, la qualità della scrittura della legge è fondamentale. Perché una patologia irreversibile può essere anche un diabete. e credo che nessuno di noi ritenga obiettivamente che se tu hai una malattia di questo tipo puoi essere... Ecco, per quel che riguarda in particolare questo referendum, che se si fosse fatto, io lo avrei affrontato, diciamo, dall'altra parte di Marco, ci saremmo scontrati e avremmo fatto... avremmo preso atto di quello che era la volontà delle persone. Quindi non avevo nessun affidamento in particolare sulla sentenza della Corte per evitare, diciamo, un dibattito e anche uno scontro. Devo dire che a me quello che ha colpito di questo referendum, avendolo studiato, perché poi uno può tener conto o meno della giurisprudenza, può ritenere che è tutto politico, oppure che esiste uno Stato di diritto e quindi determinate cose, che la sua confezione era un po' una diversità e un salto rispetto al passato. Perché nel passato molto spesso si è richiesta l'abrogazione di parti della legge. E la Corte, come Marco sa perfettamente, si è pronunciata sul fatto che il referendum fosse manipolativo o meno. Questa volta, se qualcuno lo studiasse, si è entrato addirittura all'interno dei commi. A volte sono stati, tra virgolette, abrogate delle parole, per arrivare, diciamo, a un risultato che è una proposta di legge differente. Ora, se ci fosse un referendum consultivo, tutto questo sarebbe oggettivamente possibile. Si può anche sostenere che sarebbe auspicabile che questo fosse consentito. Ecco, non si può sostenere in coscienza che questa tecnica è in continuità con quello che la Corte ha detto si può fare fino ad oggi. Se ci fosse stata un'ammissione su questo punto, che non è un punto che sta nel comunicato, per questo poi sono molto interessato anche a vedere le spiegazioni, a leggere, ci sarebbe stata un'oggettiva innovazione. Poi uno la può giudicare, non è che la Corte deve sempre andare nella direzione, ma si sarebbe usciti dai binari che fino ad ora sono stati in qualche modo seguiti. Volevi replicare? No, io penso che il quesito fosse molto secco. La depenalizzazione parziale di un reato che è quello che condanna a 15 anni di carcere un medico che facesse in Italia quello che può fare in Spagna, Olanda, Belgio, Lussemburgo. Si trattava semplicemente di lasciare decidere gli italiani, invece hanno deciso 15 giudici dei quali il relatore, mentre parlavano i nostri avvocati, il relatore Modugno, per non fare nomi, sbuffava e si agitava sulla sedia con insofferenza come se stessi dicendo delle idiozie. Ecco, questa è stata la Corte Costituzionale. Vabbè, il diritto a muoversi sulla sedia però manteniamolo. Visto che stiamo parlando del diritto. Però ti rendi conto dell'importanza della questione? C'è anche il diritto a rispettare l'interlocutore? Non so come è andata. Volevo chiedere un parere a Nordi. Oggi Luigi Manconi scrive sulla stampa Allora... Allora...